Durante i controlli i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato a Chieri, un 33enne di bottigliera d'asti con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato durante un normale controllo su strada. I militari dell'arma, insospettiti dell'atteggiamento del 33enne, hanno deciso di procedere a perquisizione veicolare e personale e l'uomo è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, 800 euro, un telefono cellulare e un mazzo di chiavi di un appartamento a Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti, in uso alla sorella della sua convivente. Alla domanda su che cosa ci facesse con le chiavi della cognata, l'uomo non ha risposto. A casa, i carabinieri della compagnia di Chieri hanno trovato un borsone contenente 5 kg di mariona suddivisi in pacchetti da 500 grammi, 633 grammi della stessa sostanza nascosti in 6 posti diversi della casa, 265 grammi di hashish, una macchina sottovuoto per alimenti, utilizzata verosimilmente per il confezionamento dei sacchetti con lo stupefacente da consegnare ai pusher, e un altro telefono cellulare. Anche la padrona di casa, una 26enne, è stata arrestata per detenzione di droga.